Bene, ieri era il nostro ultimo giorno di riprese, perciò sto partendo, ma ho portato questo per te da casa mia, così ho pensato che ti... Ma poi è arrivato il momento, non sapevo come fare, mi ero comportata così male, due volte, e così è rimasto lì, in albergo, poi sei apparso e ho pensato, il fatto è che oggi devo partire, ma mi chiedevo se non lo facessi mi lasceresti frequentarti un po', o molto magari, per vedere se ti piaccia ancora. La faccenda della fama comunque non è una cosa reale, e non dimenticare che sono anche una semplice ragazza, che sta di fronte a un ragazzo, e gli sta chiedendo di amarla, addio. Il pezzo che ho scelto era nel film di Nottingill e la scena finale, in cui lei deve partire e deve vedere se parte o no, e l'ho scelto perché, non lo so, mi piace molto come pezzo e pure come film, e dato che l'ho visto più volte questo film, mi pareva giusto portarlo qui, e poi perché mi piace molto come attrice Giulia Roberts. Io sono Chiara Spadaro, ho 12 anni, vivo a Roma e frequento la seconda media nella scuola Gigi Belli. Ho fatto diversi sport, tipo danza classica, danza moderna, hip hop, nuoto sincronizzato, però adesso faccio nuoto, ho fatto pure equitazione e quest'anno ricomincio a farlo, e faccio pure judo. Poi ho fatto tre film, un film per il cinema, che era Come le formiche, la regia era di Rari Borrelli, ed ero la figlia della protagonista, e poi ho fatto Un medico quasi perfetto, era una fiction pilota, in cui ero la nipote del protagonista, che era il medico, e poi ho fatto Anni 5, che ero una delle protagoniste, c'era Sabrina Ferilli che era la tata, e noi eravamo cinque bambini che dovevo accudire. Parlo l'inglese e sto studiando a scuola il tedesco. Sono alta 1,50.